Celtic abbiamo iniziato benissimo, poi la mia sensazione è stata quella che la partita sembrasse troppo facile e un po' hanno allentato le marcature, hanno tenuto le posizioni per un po' di tempo però se tu vai su quei campi lì, i risultati cambiano come è cambiato contro noi in un minuto perché poi dopo basta che trovano il primo gol, poi diventano una squadra straordinaria trasportata dal pubblico che avevano, quindi quelli sono i campi dove se tu hai la possibilità non devi mai dargliela per rientrare in partita, noi l'abbiamo andata e loro l'hanno presa poi però alla fine credo che il risultato sia anche giusto perché comunque è vero che non abbiamo avuto la palla del 4-2 ma è anche vero che loro hanno avuto una palla prima per fare il 3-3